E' partita subito bene la mattinata dei pendolari cremonesi che si sono ritrovati con un'ora tonda di ritardo sul treno delle 7.32 da Cremona Milano Centrale, l'ennesima tegola, l'ultima in ordine cronologico di una serie infinita di disagi che sembra non trovare mai pace. Ma i ritardi non si sono limitati ad una delle tratte più frequentate dai cremonesi, ritardi anche se più contenuti si stavano già registrando su altre linee annunciate con una quindicina di minuti. E' così, solo il giorno dopo la segnalazione dei pendolari cremaschi che lamentavano un degrado anche strutturale dei convogli sul loro territorio, arriva l'ennesimo disguido per quelli della nostra città. Disguido che come tutti gli altri finirà semplicemente agli atti a fare statistica in attesa di soluzioni che sembrano lontane dal concretizzarsi.